Ci troviamo a San Nicolò, precisamente in comune di Ponte di Piave, in questo bellissimo parco di proprietà della famiglia Maitan, che non riuscirà mai ad entrare in testa questa cosa qui, perché è un nome talmente atipico, è la prima volta che lo sento, in questo bellissimo parco dove vi è ubicato un ristorante, un ristorante che è famoso, che è il Nuovo Ranch, che è di proprietà della famiglia dal 1945, poi Cristian ci illustrerà quali sono le peculiarità del ristorante e la sua storia. Insieme ad Andrea di Ornella Bellia, nota cantina qui sempre a Pramaggiore, ovviamente parliamo del Veneto, in questo caso qui. Siamo qui per parlare di un connubio e di un percorso che queste due realtà territoriali faranno in questi mesi. Partiamo però da un punto e da una visione completamente diversa rispetto a quello che è la classico abbinamento di un piatto al vino, nel senso che di solito viene quando noi commensali comuni mortali, quando andiamo in un ristorante e scegliamo una pietanza, chiediamo sempre al sommelier, nel caso in cui vi sia, o altrimenti al titolare del ristorante, quale vino abbinare e quale si presta meglio. In questo caso invece abbiamo svolto un percorso completamente diverso. Vogliamo sfidare la cucina di Cristian insieme ai vini di Andrea e quindi realizzare dei piatti che sono personalizzati per quel tipo di vino. Adesso raccontaci tu la tua storia Cristian. Sì, la nostra storia ristorativa parte per l'appunto dal 1945, quando il locale è stato costruito con le pietre ritrovate dopo la seconda guerra mondiale nel Piave. E poi anno dopo anno, passo dopo passo, l'attività è arrivata a dove siamo arrivati tuttora. Partita da un piccolo casuino, una piccola rivendita alimentare, era un locale per l'appunto dedicata alla clientela del paese, una clientela locale, un ritrovo anche se vogliamo dopo il lavoro giornaliero. E poi i primi pezzi di carne portati dai cacciatori, le prime pentole che bollivano di mia nonna, di mio papà, e pian pianino siamo arrivati dove siamo ora. È un'attività per l'appunto che gestiamo dal 1945 e tuttora dalla mia famiglia. È importante anche il ruolo che veste mio papà nel livello della cucina, sì, seleziona le materie prime. C'è la sorella. C'è anche la sorella, esatto, che lavora in sala e mia mamma. Io so che tu sei un sommelier. E che sommelier? Perché ho saputo che quest'anno hai avuto un riconoscimento importantissimo. Adesso tu lo dirai che cosa hai avuto. Ma cosa ti senti più? Ristoratore o sommelier? Allora, prima di tutto mi sento un uomo di sala e poi arriva la parte del sommelier, che però è comunque un connubio. Però io sono nato in mezzo ai tavoli e tuttora mi piace lavorare e dedicarmi in mezzo ai tavoli. Poi giustamente la parte di sommelier è comunque una parte importante. Quest'anno sono diventato miglior sommelier del Veneto AIS 2018. E miglior sommelier del Prosecco Superiore con il Nuovo Dobbiadene. Ottimi riconoscimenti che hanno cresciuto molto il mio bagaglio culturale. Però prima di tutto ci si lavora in sala. Quale miglior critico di Cristian? Andrea, ora raccontaci tu. È un bel rischio questo. È un bel rischio far assaggiare i nostri vini a Cristian perché se c'è qualcosa che non va ce lo dice. Però ce la mettiamo tutta. Noi siamo dell'azienda Ornella Bellia. Io rappresento in questo caso l'azienda Ornella Bellia, che nasce a Pramaggiore. Nasce da tre generazioni. Ha iniziato il nonno, che era mezzadro, poi il nonno, mia mamma. E adesso ci stiamo affrontando a introdurre la quarta generazione da me rappresentata insieme a mio fratello. E speriamo che ci si riesca in questo intento. Non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, grazie. Ecco, Pramaggiore, dov'è Pramaggiore? Pramaggiore si trova a mezz'ora dal mare e a mezz'ora dalle montagne. Ci troviamo infatti vicino al litorale del mare Adriatico. e con Caorle, Bibione, Venezia, che ci rappresenta anche come denominazione di origine controllata. E a mezz'ora dalle montagne. Quindi un clima favorevole alla vite, perché è mitigato dal mare e protetto dalle montagne. E poi una caratteristica fondamentale, il terreno ricco di caranto, questo minerale, che poi si sente tutto tramite la mineralità nei nostri vini. Quindi, oggi, dopo queste tre generazioni, ci affrontiamo a affrontare una nuova sfida. Quella di valorizzare i vitini che da sempre hanno fatto la storia del nostro terroir. Che hanno rappresentato la tradizione nelle vecchie osterie. Però non dire i nomi. Non dire i nomi. Adesso è una sorpresa. Va bene. Facciamo una sorpresa. Noi prima facciamo il piatto. Andiamo in cucina insieme a Cristian. Vediamo come si compone questo piatto qui. E poi, quando è il momento, apriamo questa bottiglia e diciamo, grazie a Cristian, quale sommelier, cos'è questo vino e perché si abbina a questo piatto. Va bene. Andiamo tutti in cucina. Lasciamo la sorpresa. Lasciamo la sorpresa.